Nella mia città ci sono tante persone, persone che vivono, sognano, persone che passano la loro vita tranquillamente al meglio delle loro possibilità. Poi sono altre persone, a volte più fragili. Loro sono persone invisibili, quelle che nessuno vede, le persone che si ammalano il cuore di nero con una malattia che li spinge a diventare aggressivi, più fragili, indifferenti. Questa malattia si chiama droga. Nel mio quartiere sono ragazzi che spacciano. Il loro unico obiettivo è fare i soldi, farne sempre di più, per potersi fare la loro volta a comprare della droga. Fare il pieno di tutto, pur di far revo sulle debolezze degli altri. Io pensavo che chiedere aiuto fosse da perdenti, ma poi ho capito che da solo non sarei riuscito a uscirne. Per capo lo sballo, cercavo emozioni forti. Volevo qualcosa che mi lascia scappare dalla mia vita. Poi per la droga sono finito in ospedale. Da quel momento ho capito che la mia vita doveva cambiare. Una gira sono uscita con me e mi cercano andare a ballare. Non c'eravamo lì, uno di loro si è distratto e che già aveva messo la droga nel bicchiere. Io queste lezioni non le considero più amiche. Vedevo il controllo, non riuscivo a stare con le persone, mentivo a tutti e non riuscivo a smettere. Quante storie diverse vivono all'interno della stessa città, nello stesso mondo? Quanti cuori battono? Quante emozioni vivono nelle persone che ci stanno intorno? A volte un cuore si ammala e diventa nero e magari non fa spettacolo. Non diventa una notizia ma ci lascia tutti più soli. Grazie. 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 Grazie.